eccoci qui per la seconda puntata che riguarda la seconda legge ovviamente cosa ci dice la seconda legge la probabilità che una certa persona sia stupita e indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa persona così ci dice carlo cipolla veniamo allora al dunque diciamo la prima legge l'avevamo lasciato prima che aveva detto che è in pratica non è possibile stimare quanto quanti siano gli stupidi perché qualsiasi stima noi facciamo noi sottovalutiamo sempre il numero questa era la prima legge dopodiché quindi in ogni caso visto che non possiamo avere la percentuale esatta che siano 35 48 16 il buon carlo cipolla presenta una dice si parla di omega quindi abbiamo questa caratteristica sema omega che è un po un simbolo che sta a indicare questa percentuale indeterminata veniamo quindi alla seconda legge dove lui dice che l'appunto la probabilità che una certa persona sia stupita e indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona ed è sempre la stessa e quindi fa una discussione sul fatto che che siano uomini che siano donne che siano bidelli che siano professori universitari che siano persone che vivono in un paese ricco sviluppato un paese sotto sviluppati la percentuale di stupidi è la stessa e quindi diciamo che parla addirittura quasi fa un accenno anche a qualcosa di genetico ok uno stupido lo è nello stesso modo in cui un altro ai capelli rossi uno appartiene a un gruppo di stupidi come uno appartiene a un altro a un gruppo sanguigno quindi insomma dice uno nasce stupito per volere imprescrutabile il sindacabile della divina provvidenza ricordo che il testo è il libro è semiserio quindi è un po scherzoso però io già noto una una incongruenza perché se diciamo sicuramente carlo ci può l'ha fatto studi classici io ho fatto studi scientifici se non riesci a determinare una determinata scusate percentuale e quindi non sai se gli stupidi sono 25 35 piuttosto che 99 per cento della popolazione allora non poi a non ha in mano nulla neanche per giustificare questa invece questa ugualianza di percentuali tra tutte le popolazioni che siano maschi che siano femmine che siano ricchi o poveri che siano addirittura bidelli o premi nobel tanto è vero che dice che nei premi nobili si trova la stessa la stessa percentuale che si trova tra i bidelli o tra gli studenti e quindi e allora però la percentuale la trova e sarebbe in contraddizione con la prima legge quindi diciamo questa questa parte è un po diciamo incongrua però lui la utilizza diciamo artificialmente pur contravvenendo alla logica del pensiero scientifico per dire che bene o male è la natura è equanime cioè non ha voluto non ha penalizzato uomini rispetto a donne o donne rispetto a uomini non va a colpire popolazioni non va a colpire gruppi particolari gruppi etnici razze qualsiasi cosa per cui però parla anche di una persona che sono stupide oppure no quindi qualcuno nasce stupido secondo questa seconda legge fondamentale o quello che lui scrive chiaramente questo però è in contraddizione con la prima legge perché perché è diciamo anche con quello che lui fa sotto quando fa l'intervallo tecnico che io vi ho già spiegato e fa vedere il grafico che io vi ho fatto vedere ieri il giudizio di stupidità viene fatto non sulla persona in quanto stupido ma sulle sue azioni anzi sull'esito delle sue azioni quello che viene verificato è il comportamento delle persone e quindi e questa era la parte che mi piace di più perché non stiamo dicendo uno sei stupido stiamo dicendo a qualcuno che ha fatto una stupidata e questo è una cosa estremamente diversa nella parte che riguarda la parte più cartesiana diciamo che vi ripresento quello che avevo fatto ieri con una piccola modifica cosa abbiamo che una persona può essere bandito per esempio ma ci sono tanti tipi di banditi c'è un battitismo perfetto che sta su questa diagonale che è colui che ruba mille ma sottrae mille quindi non crea ulteriori danni invece abbiamo i casi in cui persone per abbonare mille creano dei danni di 10.000 e quindi vanno molto di più verso la stupidità e in altri punti delle discussioni dell'esposizione di cipolla ci può essere che la stessa persona magari normalmente è intelligente quindi produce i risultati indici però ogni tanto magari qualche stupidata la fa tutto questo tipo di costrutto indicava che la stupidità veniva valutata sulla sull'esito delle azioni e non sulla non è un giudizio sulla persona ad personam ma sul suo comportamento e il comportamento può cambiare questo è una parte interessante che deriva un po' dalla prima legge e da questi quadranti mentre diciamo che invece questa seconda legge è un po' una stonatura però diciamo ve lo presento così ma non è detto è una mia interpretazione forse perché io non ho fatto studi classici quindi chi li ha fatti sicuramente troverai troverai i miei errori bene che dire il problema è che se il comportamento può cambiare una persona e ci sono anche grafici in questo senso più che altro poi che sono stati presi in considerazione da Livraghi che è l'altro studioso sulla della stupidità che è partito dalle leggi di cipolla ha aggiunto i suoi corollari e ha fatto tanti ragionamenti soprattutto sul problema del potere e della il potere e la stupidità e la stupidità del potere che è la parte secondo me più interessante che viene che si lo però un po' più in lato poi avevi spiegato le prime leggi fondamentali il problema appunto che una persona può spostarsi di quadrante una persona magari inizia intelligenza e poi dopo un po' magari fa qualche operazione un po' banditesca potrebbe sembrare mi viene a pensare a certi miliardari che vanno per la maggiore oggi che sono un po' un po' sulla linea di confine ma quindi diciamo la seconda legge invece cerca di fissare in pratica fissa un qualche cosa che non mi piace perché sembrerebbe quasi una cosa genetica e non è il caso o cita la divina provvidenza ancora peggio e quindi sembra quasi una ineluttabilità dell'essere stupiti piuttosto che banditi piuttosto che sprovvigluti e intelligenti piccola caduta di stile di chi ha fatto il liceo classico non lo so lo scopriremo intanto questa puntata io la faccio un po' più breve del solito e tanto sulla seconda legge come introduzione va più che bene poi dopo in futuro magari farò più fatica perché bisogna coordinare l'esito delle varie discussioni ma come base questa io la lascerei così e quindi vi saluto e vi do appuntamento per la terza legge che verrà magari domani magari dopo vediamo oggi se non riesco a fare una puntata un giorno con l'altro vedo che la prima ha avuto già un successo con quasi 300 visualizzazioni nelle prime nella prima mezza giornata quindi se vi è interessato o bene andiamo avanti a fare le altre puntate e ci vedremo quindi un buon saluto a tutti e ci vediamo prossimamente ciao